Vi serviranno una decina di carciofi. Sbucciate e lavate benissimo le vostre patate, tagliatele a cubetti e poi in una ciotola mettiamo un po' d'acqua e il succo di mezzo limone. Passiamo alla pulizia dei nostri carciofi. Togliamo tutte le foglie iniziali, le più dure del nostro carciofo, fino a che arriviamo alle foglie chiare, quelle tenere tenere. Tagliamo il nostro carciofo a metà in questo modo. Puliamo anche dall'interno il nostro carciofo. Come vedete ho formato un buco e vado a scavare e pulire benissimo l'interno. Vado a togliere anche quella retina che si viene a formare all'interno del nostro carciofo. Bene, passiamo nuovamente all'esterno del nostro carciofo e andiamo proprio a levigare il nostro carciofo e leviamo le punte e le parti più dure del nostro carciofo. Deve essere liscio e omogeneo. A questo punto tagliamo il nostro carciofo a metà e poi nuovamente a metà. Immergete i vostri carciofi nella ciotola con l'acqua e il limone e fate così per il resto dei vostri carciofi. In una padella antiaderente versate l'olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio tagliato a metà che potete togliere in un secondo momento, i carciofi e un altro filo d'olio extravergine d'oliva. Passiamo ai fornelli, una fiamma medio e bassa, un cucchiaino di sale. Vado ad amalgamare bene il tutto con una spatola. Dopo 5 minuti di cottura possiamo togliere l'aglio e versiamo anche le nostre patate tagliate a cubetti. Quindi versiamo le patate, amalgamiamo nuovamente con la spatola il tutto. Versiamo un filo d'olio extravergine d'oliva e pepe nero macinato. Nuovamente amalgamiamo il tutto con la nostra spatola. Bene, mettiamo il coperchio e facciamo cuocere il tutto per 2 minuti. Dopo 2 minuti vado a versare 300 ml di acqua naturale. Tirano 2 cipolle dorate, tagliatele. Sono passati 5 minuti, vado ad amalgamare bene il tutto. Nuovamente. Metto il coperchio e faccio cuocere per altri 5 minuti. In un'altra padella metto un filo d'olio extravergine d'oliva e le mie cipolle tagliate. Quando saranno ben dorate sono pronte. Nuovamente passati 5 minuti, vado ad amalgamare bene il tutto con la mia spatola. La cottura va dai 5 minuti ai 5 minuti e verso ancora una presa di sale, pochissimo. Vado ad amalgamare sempre il tutto. Metto il coperchio e faccio cuocere per altri 5 minuti. Passati nuovamente i 5 minuti, vado ad amalgamare bene il tutto. Metto il coperchio. Nuovamente i 5 minuti. Vado a mettere la cipolla già cotta. Amalgamate bene il tutto e dopo 2 minuti potete spegnere la fiamma. Vi consiglio di controllare la cottura perché può variare molto dalla qualità delle patate e dei vostri carciofi. Quindi voi ogni 5 minuti controllate la cottura. Quando risulteranno ben cotte potete mettere la cipolla e sono pronti per essere gustati. Buonissimi! Che dirvi? Io spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando iscrivetevi perché ci sono in arrivo tantissime videoricette super golose. E tantissime altre ricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei video. Mi raccomando se il video vi piace lasciatemi un bel like, un commento e condividete. Se volete potete seguirmi anche su Facebook, su Instagram e da oggi anche su TikTok. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! Baci da Cartesia!